Mini recensione richiesta dall'amico Dario Bagatin che mi chiede di parlare del film di Oliver Stone, Salvador, del 1986, con un grande James Wood e un ottimo Jim Belushi, stavolta in una parte non comica, anzi drammaticissima e molto importante, film tratto da una storia vera. Siamo nel 1980, il giornalista americano squattrinato, arcolizzato, interpretato da James Wood, ovvero Richard Boyle, decide di partire insieme all'amico tossicodipendente, Dr. Rick, interpretato dalla grandissima Jim Belushi, e Salvador per fare uno scoop e parlare della guerra civile. Quando è lì si fa i cazzi suoi, sembra molto cinico, poi piano piano si rende conto in realtà di cosa sta veramente succedendo, di quanto sia terribile il colonnello Max e la sua guerra contro i guerriglieri comunisti, ed è lì tutto il cambiamento di Boyle attraverso appunto ciò che gli passa sotto gli occhi. La trama è tutta qui in fin dei conti. E poi assisteremo a delle scene meravigliose di battaglia, assistiamo a delle scene drammatiche, fantasiche. Il grande Oliver Stone qui decide, film boicottato in patria, non trovava i soldi, film boicottato perché? Perché dopo Carter arriva Reagan e il nostro dichiara chiaramente che Reagan è un amico dei fascisti dell'America del Sud. Oliver Stone di tutti, da Pinochet a venire giù alla dittatura argentina, a tutti quelli che sono stati diciamo i dittatori di destra più fascisti e crudeli del mondo, sono tutti stati messi lì appunto degli americani e pagati dalla CIA per cercare di non far salire il partito comunista o i partiti troppo di sinistra al governo nel Sud America. E questo Salvatore è un film che parla di questo in realtà, attraverso gli occhi di un uomo che era convinto in realtà del sogno americano, di tutto ciò che sembrava davvero poter essere quello che era per lui l'idea dell'America all'estero, viene devastata appunto nella mente di questo giornalista che si ritrova in realtà una verità terrificante, ovvero il sogno americano è finito e ormai l'America è un posto imperialista che paga e dà forza solo a chi ha veramente della crudeltà e di destra estrema e che vuole distruggere solo per mantenere appunto lo suo impero e il suo potere industriale. Il film parla di questo attraverso però una messa in scena a dir poco strepitosa, perché Oliver Stone comunque pur mantenendo a bada un po' il suo stile rutilante a volte è un po' perocco, qui rimane secco, inquadrature molto semplici, attaccato anche ai volti, a volte delle espressioni di James Wood che è un grandissimo, Belushi è un altro splendido attore, Jim Belushi qui che dà appunto come ho detto prova, è una situazione veramente alta. E ripeto è un film di accusa sociale che attacca fortemente l'America e appunto dopo Carter dice chiaramente che è Reagan. E gli Stati Uniti non fanno altro che fomentare appunto la violenza e la morte attraverso sti fascistoni schifosi. E Stone però lo fa con una grazia enorme a livello, come ho detto, di regia, perché il film ha un ottimo ritmo, una bella tensione fino al bellissimo finale. È uno dei classici film di formazione del cinema a 14 anni, lo ha adorato. Nonostante appunto il lato sociale e politico riesce ad essere proprio bello anche come intrattenimento, un film che tiene, non lascia andare lo spettatore, gli insegna anche qualcosa, ma lo fa attraverso il modo migliore in cui uno può fare il cinema senza tanta retorica, mandando diritto ai fatti e mostrando la realtà per quella che era, sempre attraverso comunque lo sguardo mitico del cineasta Oliver Stone, che riesce, grazie alle belle scenografie di Rubèo, alla gran bella musica di Georges Del Rey, ma anche al montaggio di Claire Simpson, a fare un lavoro enorme sulla sua sceneggiatura, appunto tratta da questa storia vera di questo Byron. Film dolente che di questi tempi non li farebbero fare nemmeno sotto tortura probabilmente, e mostra un'altra volta quello per cui è, almeno secondo Oliver Stone, l'America, ovvero un paese conquistatore che ha sempre conquistato e continua a conquistare che con sotto i modi democratici in realtà non fa altro che fomentare la violenza e la guerra nel mondo. Questo dice Salvador di Oliver Stone, potrei essere d'accordo oppure no, ma il film resta grandissimo, il link è qua sotto, di Oliver Stone poi io mi farei tutto perché a me piace anche la roba che dico non meno di uscita. Donate su Patreon, mi piace, iscrivete al canale, campanellino, il cazzo che vi pare, seguitemi su Facebook, seguitemi su Instagram, seguitemi che cazzo vi pare, e soprattutto fatevi questo Salvador perché è veramente un film della Madonna.